La masseria didattica Lama San Giorgio è a pochi chilometri da Bari. Ristrutturata con cura e nel rispetto delle antiche architetture, è il luogo ideale per trascorrere ore di quiete e di relax. La masseria coltiva e commercializza l'uva da tavola, le olive, i vini, il prezioso olio extravergine d'oliva e le ciliegie. Rinomate anche le sue confetture e i suoi prodotti sott'olio. La calda atmosfera degli ambienti, esaltata dalla pietra a vista e da mobili d'epoca, fa da cornice ad una cucina rustica basata sul recupero di antichi sapori. Lama San Giorgio è anche un rinomato agriturismo, con camere confortevoli ispirate alle antiche tradizioni contadine, dove la quiete regna sovrana. Nove stanze molto accoglienti accolgono l'ospite in una piacevole atmosfera. Sotto l'aspetto didattico, la masseria propone laboratori orientati alla conoscenza delle varie tecniche di coltivazione e soprattutto alla produzione di marmellate naturali.